e lo come amus abitere su motore su motore de gustu stereo de gustu stereo radio casie e su motore pro sai zirare sa musica setta chi ha da due a tipologia di avvolgimento so in questo caso este gustu motore de nove volt pro it sai su sa batteria este richiesto dice nove volt este richiesto un numero de batteria vari a questa tensione ok con sa corrente ovviamente maggiore sa batteria maggiore sa capacità di accumulazione e vada pure su maggiore capacità di fornire in sora su san per ora quindi casie con questa per ora noi si votiamo sulle aree prima di tutto una misurazione dei circuito su motore questo este ha due a svolgimento insomma uno non funziona e quindi probabilmente gusta radio la aia da ca che problema e questo problema chieda sa radio tu e lo potete leare in noga comente impostende su tester impostende questo tester da sa direzione off a lui provabile dare si bel tesa continuitate ok quindi su unità di misura este home in questo caso le ha da su tester e poniti su valore gasia e custu su valore in cui quindi abitiamo su che best e sa continuitate ok pro itte quando non best e continuitate so separata sa tu e ludo casa torra e in oga best e sa continuitate beh testa continuitate però non abitano la resistenza pro itte custo este uno cortocircuito no invece quando due ludo casa come custo custo con custo potete abitare chi best e bel tesa una continuitate ed è una offre una resistenza pro itte o s'avvolgimento bada un avvolgimento d'induttanza indrinto e da che è una resistenza questo avvolgimento d'induttanza abitano da su colore e bel tesa marrone su viola noi proviamo su abitare su viola come si da che ne qualche tipologia di resistenza come ho continuitate e non bel teneci una continuitate o chi abitende sai sai viola sa non bel teneci una continuitate no no cada metà senso dell'abitare con satte ru pro itte sei colore este differente pro usso quindi no no cada metà senso polit e naracchi biso due s'avvolgimento sono e quindi non vi può restare nici un tipo di connessione avrusi lo siamo su contro lente probabilità si fa una connessione settaro in settaro lo quasi è una banca nici una tipologia della connessione che quindi su unico collegamento che bada e ste custo custo che funziona da ammitate quindi questo nottore no se noi le amo su una batteria normale batteria di nove volt invece di le ponere custa il custa con su stereo funzionato su mattesi no beh te iscritto in oga 9 volt comunque proprio pro su standard sa dimensione vissa e 9 volt este solo custa no 9 volt quindi custo este 9 volt e abitamoso da su segnale che ha poi l'assato in oga vediamo su siti da in oga siti pure con su segnale si è funziona da custo motore ok custo motore lo potiamo pure fare funzionare con questa batteria abitamoso chi ha la zirato chi zirata ok quindi questo este este zirende e quindi questo diventa da un motore è questo este un motore per noi consumatore da voi abitamoso che si può fare ma non solo questo però sa con venti bata una convenzione del generatore e sottilizzatore in questo caso è un utilizzatore questo come temo come temo torna noi lo potremmoso convertire in generatore fate facendo le tra pagliare in revessa cioè i te i te che non arre fa che le tra pagliare in revessa gusto chi è gomo noi si da sai cavoso marrone chiamo subito bel tesa continuitare da su valore dei home in oga andiamo su a alzare in su valore dei volt in oga che quindi questo valore dei volt ponimos su tester in volt in oga e da voi si questo valore dei volt lo il crimoso lo proviamo su proviamo su a attaccare quindi abitamoso chi è il te a zero chi è il te a zero visino a zero in mille volt sa scala massima e comente su duale comente su duale e de esa quindi comano bel tenisci una tensione ok se noi si lo facchiamo su rotare e potremmo sopravvivare chi si rende si rende questo motore genera una tensione ok genera una tensione e talvolta ci ti puro la scala ok questa variazione casie tu è la poter sfruttare come ente generatore decorrente si bada una pila nacchi custa custa este ricaricabile tu è l'attacca generatore generatore si bada uno percorso da eva idea che vada casie no de continuo una percorso idea o attere tipologia di percorso l'uento su ento casie tu è l'attacca da costumatore e custo ti carrega sa batteria che pote essere de questo tipo di batteria oppure sa batteria normale di questo telefonino che comunque è solo il fai dende da uno pulo su questa tipologia di batteria potete caricare ok da voi con questo motore tu è potete fare si lo vediamo su in pratica da voi ma bilantissimo da sa movimento rotatorio da su movimento della rotazione casie tu e potete avere un movimento traslatorio casie no traslatorio in questa direzione invece geste rotatorio casie no quindi questo tipologia di conversione è sufficiente che tu e attaccala in nove uno nacchi una cosa tipo sabinna quindi una barra affilettata stessa riata che una barra affilettata in ora e con su bullone tu e vuoi una barra affilettata con su bullone interno da voi la muso abitere con su bullone interno abilantissimo poniti uno schema in ora però bloccare su bullone e e da voi con su bullone con su bullone che è bloccato in ora tu e lo potete far muovere su bullone in ora in questa barra affilettata che non si è bloccata ok? poi te su bullone e ti è bloccato e ti è bloccato da ora quando tu lo facete muovere in ora esci ed entrati uno stantuffo ok? esci ed entrati uno stantuffo e non si è bloccati con su bullone che è il intendente questo ruota e nono e fare questa tipologia di movimento ok? questa tipologia di movimento questo stantuffo con su bullone la muso abitere solo utilizzando questa tipologia di motore che si è nacchini e sai prima robottoso eccetera ma è la cosa che si è ok ok